Tutto qui è una canzone che nasce in una sessione insomma col mio produttore in studio Eravamo lì a scrivere diverse canzoni senza pensare al festival ma più per scrivere per eventuali dischi futuri eccetera Eravamo entrambi molto rilassati, molto sereni e in un momento di forte ispirazione credo ho scritto questa canzone di getto E in un paio d'ore l'avevo scritta tutta e arrangiata e niente quindi ho deciso di portarla a Sanremo perché volevo fare una cosa diversa per me Visto che ho fatto già tante cose anche se l'ho fatta in un tempo abbastanza breve però ho messo tante bandierine un po' qua un po' là E allora ho deciso che avrei voluto mettere una bandierina pure all'Ariston che è un palco che comunque è stato calcato da così tanti artisti che mi piacciono E' uno che insomma ho pensato che anche io volevo essere in mezzo a questo diciamo almanaccom della storia della musica italiana E spero che vada tutto bene di fare una bella figura Sanremo per me rappresenta una novità, un palco nuovo Alla fine a me piace cantare sui palchi, è la cosa che mi piace di più fare, cantare dal vivo E quindi Sanremo è uno di quei palchi che non ho mai avuto il piacere di calpestare diciamo E quindi da parte mia c'era questo interesse nel cercare di mettermi alla prova in un nuovo contesto E di dimostrare comunque che questa è la mia vita e questo è il mio lavoro E mi piace farlo un po' dappertutto al di là del palco Al festival l'ho seguito quasi sempre fin da piccolo perché i miei genitori lo guardavano Quindi lo associo sempre a un momento anche familiare sul divano mentre lo guardavamo E nel frattempo crescevo e crescevo con la voglia di fare il cantante Quindi l'ho sempre guardato fantasticando sul fatto che un giorno magari anche io avrei fatto il cantante E chissà un giorno magari avrei anche cantato a Sanremo Poi crescendo la voglia di andarci era un po' diminuita Però negli ultimi anni Sanremo per come la vedo io si è riacceso Ha iniziato a includere nuove generazioni di artisti e tra virgolette a svecchiarsi un po' E quindi ho pensato che fosse il momento giusto adesso di partecipare Proprio in questo momento in cui appunto vengo da un concerto allo stadio È un momento in cui la mia carriera va bene Quindi vado lì a cuor leggero senza l'ansia di dover andare a cercare di conquistare chissà cosa Alle prove con l'orchestra per ora ne ho fatte due Una a Roma e una proprio all'Ariston e sono andate molto bene E il pezzo che ho scritto comunque si presta molto a essere suonato da un'orchestra Quindi sono molto felice, non vedo l'ora di farlo lì all'Ariston